Nicola Quercia, lei è della QMA, che cosa state facendo qui a Barzio oggi? Stiamo predisponendo gli impianti per il collegamento di fibra ottica che permetterà di avere la DSL al comune di Barzio. Si spiega esattamente com'è il lavoro, ce lo fa vedere? Sì, in pratica viene eseguito un microtaglio, un mini trincea, una nuova tecnica sperimentale che stiamo utilizzando e praticamente con una macchina che taglia 40 cm di profondità predispone lo scavo per la posa di una tubazione che servirà per l'infilaggio della fibra ottica e quindi per il collegamento da centrale a centrale. Qui vedo un buco ma dietro ho visto che è già chiusa la coppia. Sì, la particolarità di quest'opera è che si riesce a fare una metratura molto elevata, quindi circa 300 metri al giorno, anche di più volendo, e viene reinterrato con calcestruzzo in modo che la sera stessa la strada sia agibile, non ci siano interruzioni e si accorciano notevolmente i tempi di predisposizione.